Bella per voi ragazzi, la serie senza tempo, Diego da solo per questo nuovo monologo chiuso in macchina come vuole la tradizione per parlare di questa giornata di campionato, della Lazio soprattutto e delle squadre competitors in questo momento insomma di un po' di cose, la Lazio che non riesce a spugnare il campo del Monza nonostante sia andata in vantaggio due volte, l'1-0 meritato perché prima mezz'ora ha giocato bene dalla nostra compagine torna al gol Ciro Immobile, sfortunato Camada con la sua botta deviata di Gregorio sulla traversa arriva come un rapace il buon Ciro che segna dopo tanto tempo, sono contento che sia tornato al gol insomma per lui e per noi, voglio lasciarmi indietro oggi le polemiche, ne voglio fare altre di polemiche però insomma sì, contento del gol di Ciro e nonostante questo poi la nota negativa, più negativa secondo me la sostituzione di Zaccagni al trentesimo, insomma gestione di Tudor, rivedibile diciamola così perché, allora è vero come dice anche lui, aveva preso Zaccagni un cartellino e mezzo, un giallo e mezzo e molto nervoso, direi di cambiarlo al trentesimo e sostituirlo con chi? Con Casale mettendo poi Yusai, che era stato schierato all'inizio come terzo di difesa facendolo insomma scalare come quinto di centrocampo, quarto poi in realtà non so come si chiamano nel caso della formazione di Tudor degli esterni di centrocampo e smettendo Casale quindi come braccetto e non ci ha capito niente Casale, già era in difficoltà Zaccagni nonostante stesse giocando bene ma in fase di copertura con Colpani tra l'altro colpani veramente non lo ricordavo perché non è che ho vissuto queste partite del Monza vedo solo i numeri che ha fatto, ricordato la partita di andata è veramente forte, è veramente in forma qualcuno furbo agisca subito perché non sarebbe niente male averlo in squadra uno così il fatto sta che fa impazzire la lassia e tu metti Casale che è il difensore che sta meno in palla di tutti, che sta proprio nel pallone anzi infatti si fa munire tre minuti dopo l'entrata in campo anche lui qual è il discorso su questa sostituzione? è che è vero che tu potevi anche decidere di toglierlo perché lo vedi nervoso, lo vedi insomma in pericolo però l'errore sta a monte perché Zaccagni ti ha fatto anche capire che lui in caso di emergenza lo fa quel ruolo che però preferisce stare, giocare davanti ora è ovvio che decide l'allenatore e i giocatori devono andare in campo come dice l'allenatore però è vero anche che sappiamo che questo è un momento delicato che sono tutte prime donne e che io non so se in questo momento forse la scelta giusta è fare l'uomo, il sergente di ferro come si dice, il comandante di ferro il sergente di ferro e decidere, insomma fare il protagonista se fossi allenatore cercherei di smussare un po' gli spigoli nel senso che sì, sei in emergenza perché non hai Lazzari Pellegrini non lo vedi giustamente da una parte però insomma è meglio Pellegrini Pellegrini esterno-sinistro tutto campo o io sai, non lo so, vabbè la prima emergenza però ragazzi, secondo me la risolve Felipe Anderson che è lui che secondo me l'ha già fatto anche con Tudor la prima o la seconda partita bene, l'ha già fatto in altre situazioni bene, è più adatto è vero che ha fatto bene anche da trequartista l'ultima, non contro il Monza perché è stato veramente non ha inciso assolutamente nella partita il buon Felipe però secondo me poi mette benissimo lui se adesso ti senti così senti che Luiz Alberto sia così indispensabile così come Felipe Anderson sposta Felipe Anderson largo e metti Zaccani trequartista da inizio partita potevi fare così è possibile che Zaccani sia stato nervoso da inizio partita per quel motivo perché deve giocare lì una posizione che non gli è congeniale quando ci sono anche altre situazioni c'è qualcuno che parla dietro di me se volevi fare questo cambio invece di buttare un cambio al trentesimo potevi farlo, potevi fare dopo potevi mettere Zaccani al posto di Felipe e Felipe largo a partita iniziata se volevi provare un inizio con Zaccani largo e invece ti mette Casale che compromette la partita e fa uscire Zaccani quindi ecco si aprirà un altro caso sì sono episodi di campo nessuno è contento di uscire gli soliti discorsi che si fanno però anche a livello proprio di approccio alla partita di segnale che dai ai giocatori che rimangono in campo secondo me non è un buon segnale perché tu poi rimani con una formazione molto difensiva nonostante poi i centrocampisti che hai sono offensivi però ecco Yusai a tutto campo Marusic è dall'altra parte a tutto campo con Casale che non sta in forma i gol vengono tutti e due per colpa di Casale uno c'è anche lo zampino di Cataldi l'altro cambio che fa tre giocatori insieme intorno al sessantesimo io anche quello non l'ho capito perché tu valeva Camada che è uno che corre tutta la partita e Luisa Alberto che magari uno si è stanca prima sì oltre a Immobile che il cambio ci sta per effetto tra Castellanos e Vesino e Cataldi probabilmente me levi due palleggiatori uno che corre tutta la partita per mettere due che palleggiano meno sinceramente sì Cataldi può considerarsi anche lui un palleggiatore volendo però sicuramente non a livelli di Luisa Alberto o di Camada Cataldi sbaglia si addormenta col pallone tra i piedi e ne scava uno dei gol Casale in uno tiene in gioco Yuric e nell'altro si fa passare davanti dallo stesso attaccante gigante del Monza che tra l'altro fa la prima doppietta in carriera perché noi sempre gli apripista dobbiamo essere la prima doppietta in carriera di Yuric che la fa noi e non capisco veramente questi cambi io non vorrei che tu veramente la toppata questa mi dispiace non voglio fare come qualcun altro che ho sentito ti ho letto dare dell'incapace e cominciare già a etichettare tutelo però insomma si vede che come approccio mi piace il tipo di gioco mi piace preferisco forse idealmente qualcos'altro però vedere una squadra aggressiva che fa pressing a tutto campo che porta tanti uomini dentro l'area è interessante bisogna vedere come poi proteggi la tua di porta però è figo il fatto che in realtà sta adesso siamo in un periodo di mezzo insomma perché non è una Lazio che va a prestare tutto campo non è ancora la Lazio di tutor vera e propria e lui sta cercando di fare una transazione morbida e ci sta però il fatto sta che ecco se una formazione così in uno stile di gioco così non lo fai al 100% poi ti ritrovi a essere scollato ti ritrovi alla difesa che indietreggia tutto il tempo con quello che cercava di dire avanzate avanzate alti alti con la difesa però poi siamo sempre schiacciati Romagnoli anche non si sta comportando bene ultimamente è un peccato manca Ghila manca tanto con la difesa Patrick invece continua ad essere un elemento imprescindibile incredibilmente e appunto non voglio etichettare già Tudor però qualcosa a partita in corso si vede che sbaglia non è la prima questa anche contro la Juve è un po' compromesso diciamo compromesso no perché era già difficile però dal 2 a 0 fai dei cambi insomma particolari e la Lazio poi prende prende il 2 a 1 poi tra l'altro i cambi la stanno per riadrizzare la partita perché Vesino che io non pensavo fosse un cambio azzeccato invece come al solito poi suo legge bene la partita e la situazione in sé e va a rubare quel pallone insomma va a leggere va a capire fare pressione su Donati che fa un pasticcio tra Coacpa il nostro Acpa e il portiere e va a saccare il 2 a 1 però poi al 92 non hai la lucidità di capire che Djuric lo devi tenere lontano dall'area che lo devi spigna che lo devi che ti fa il blocco su quel cross anche Pedro e non so se era Marosic lì sono i due avversari che si scambiano la palla e c'è continuamente Pedro che va a raddoppiare su uno lasciando l'altro libero la palla passa sull'altro che ha crossato non so se era colpato i ragazzi scusatemi Birindelli e quindi Pedro che ricorre sull'altro gli ripassano la palla sull'esterno Pedro che ricorre è lasciando quello libero alla fine Pedro non riesce a tornare e quello crossa a mezzo riesce a crossa a pulito a mezzo non è insomma disordinati disordinati è un peccato perché all'ennesimo treno che ti si ripresenta questa stagione è incredibile ovviamente non è colpa di Tudor se la Lazio è in questa posizione in classifica anzi la media punti che ha è molto alta e quindi quindi bene è anche vero che hanno giocato poche le partite però ovviamente non ha nessuna colpa per questa situazione però questo si conferma proprio una squadra che a livello mentale ragazzi porco Giuda che limiti che limiti che ha perché tutti si ripropone un'altra volta un'occasione di rientrare incredibilmente in gioco per un posizionamento champions che può giovare a chi vuole andare via perché tu puoi chiedere di più alla squadra che ti che ti prende sia a chi vuole restare perché puoi fare un'altra volta la champions l'anno prossimo un'altra volta perdi il treno l'ennesimo tu vincevi sta partita mancavano tre partite e ti ritrovavi e ora in questo momento l'Atalanta ha due partite in meno perché giocherà oggi con la Salernitana e c'ha un punto in più di te quindi con Salernitana e Fiorentina che ancora deve giocare e ti ritrovi a sei punti da Fiorentina e Napoli Fiorentina ha una partita a meno Napoli ha una partita a meno cioè oggi il Napoli deve giocare contro l'Udinese e non è che gli ha regala perché sta a terz'ultima a pari merito col Sassuolo penultima la Fiorentina uguale devi stare attenti a chi ti arriva dietro e davanti la Roma ha fatto un pareggio che comunque ti tiene a distanza avesse perso contro la Juve avresti guadagnato un punto ma adesso è rimasto solo l'Atalanta alla Roma è difficile perché poi sono rimaste due partite più facili delle nostre perché noi per l'ultimo abbiamo l'Inter e il Sassuolo Sassuolo che vincendo contro l'Inter tra l'altro Sassuolo l'unica squadra a battere tutte e due le volte l'Inter l'Inter ha perso solo col Sassuolo quest'anno in campionato una volta andata una volta ritorno vabbè si parla del biscotto e dei carnevali testimone dei non so che insomma padrino insomma mezzo parente di Marotta vabbè ma è ovvio che Sassuolo fa comodo rimanga in Serie A perché fa qualche regaletto con i giocatori a chi ha le squadre che gli pare vabbè però potremmo ritrovarci all'ultima giornata dove gioca contro il Sassuolo che si deve salvare dobbiamo giocare domenica prossima anche celebrando tra l'altro io non ci starò perché ho un matrimonio con Sicilia e sto rosicà contro l'Empoli che per lui si deve vincere per non retrocede cioè noi adesso abbiamo il calendario facile Empoli che deve vincere per allontanarsi dalla zona di retrocessione l'Inter che comunque una vittoria la farà in queste partite e il Sassuolo che se non retrocede prima deve vincere l'ultima contro la Lazio cioè quindi si compromette anche l'Europa League è assurdo con un po' più di attenzione un po' più di mordace avremmo portato a casa il risultato anche non meritandolo contro il Monza che ha meritato anzi forse meritava anche la vittoria perché ci ha preso a pallonate cioè noi quando incontriamo le squadre che non hanno più niente da fare da dare e da dire nel campionato invece di 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 le squadre stanno un po' passive giocano con leggerezza quali sono le due alternative una squadra che non ha più niente da dire o se lascia andare o alla testa leggera può giocare con leggerezza provare nuove cose e giocare senza pensieri e far caccio champagne a noi c'è capitato il Monza che far caccio champagne ha la testa libera dagli obiettivi e quindi niente ragazzi purtroppo io spero che Tudor non sia quel tipo di allenatore protagonista che dalle che dalle dichiarazioni non voglio anche parlare delle dichiarazioni che ha fatto nel prepartita dicendo che insomma andando a confermare lo nomina anche Sarri dicendo che questa squadra forse ci sono troppe aspettative mi piace il discorso che fa sul fatto che ci sia molta passione in questa città e la passione a volte rischia di sopravvalutare la squadra di richiedere troppo è una squadra che in realtà poi a livello di rosa non può dare quindi ecco che anche lui legittima le frasi di Sarri le frasi di Simoninzaghi che parlava ci sono le corazzate jugiamo contro le corazzate cilindrata cilindrata mentale di Sarri rosa sopravvalutata dall'ambiente di Tudor insomma si ripetono un po' le cose e forse è vero che vogliamo un po' troppo e che noi ci sentiamo di meritare tanto dalla nostra società vedendo anche le squadre intorno a noi che non ci sono solo le corazzate sono anche squadre che lavorano bene e si possono permettere di ambire a dei traguardi che noi continuiamo a mancare quindi tralasciando questo non vorrei che Tudor fosse uno che fa il tranquillo l'uomo di ferro tranquillo in conferenza che poi prende decisioni dure panchinando i senatori decidendo lui la formazione sconvolgendo le gerarchie perché per esempio io vorrei capire Rovella dice mette su un po' dei chili perché è un giocatore che capisce dei calci è bravo però mette su un po' dei chili ma non è che c'ha 15 anni c'è una 23 Rovella può mettere su 2-3 chili non è che si può pompare stile Pialli nell'anni 90 con la Juve pace all'anima sua cioè Isaksen ha preferito Pedro ancora una volta ecco anche Isaksen a tutto campo deve entrare contro il Monza anche se non aveva fatto bene non lo so vorrei che appunto fosse così e che poi però sul campo dimostra in un certo punto di spaventarsi e di non dare il tutto per tutto di non far vedere quel coraggio che sembra avere in superficie e ci sono tanti allenatori che preferiscono dare come tanti tifosi attenzione dare maggior importanza alle proprie idee che poi che poi ha il risultato in sé e all'evidenza capito cioè De Zerbi per esempio che non è male però è osannato da tutti però poi i risultati cioè mi pare che è tredicesimo quattordicesimo adesso è un premier e fa tanti gol ne prende altrettanti perché lui le sue idee sono quelle non si difende si attacca solo però è una certa di pure difende stessa cosa non lo so ci sono tanti di allenatori che vanno dritti Sarri per esempio però Sarri è già un'altra generazione un'altra visione dritti al punto non cedendo mai sulle proprie idee insomma spero che Tutor non sia così spero che Tutor si sappia adattare a quello che poi vede in campo e e abbia un po' più di polso non soltanto a livello insomma non soltanto a parole ma anche sui fatti non lo so ragazzi questo è come al solito un video confuso e in cui mi sfogo però ecco io continuo a aver fiducia ovviamente ritorno sul discorso che non si tifano le nostre idee ma si tifa la Lazio io non voglio che Tutor perda non so contento che Tutor perda così posso dire visto l'avevo detto che Sarri era meglio no ripeto a me mi piaceva più Sarri idealmente romanticamente però sul campo i risultati li abbiamo visti l'ultimo anno quindi era ovvio cambiare e è ovvio che mi piace e adesso sostengo Tutor anche se idealmente romanticamente non è il calcio proprio mio preferito però sta la Lazio vince o dai è tutta è questo che qualcuno deve capire purtroppo dopo l'esplosione dei social e infatti è da Inzaghi dall'ultimo periodo di Inzaghi in poi che stanno a cominciare a fare le fazioni vedovate Inzaghi vedovate Sarri vedovate Immobile vedovate questo perché poi tanta gente parla sui social come noi non sono andati in quel periodo praticamente e quindi pare che noi dobbiamo dire il dogma non è quello io dico la mia opinione tanti dicono la loro opinione che poi può essere sbagliata o giusta personalmente ognuno pensa quello che vuole però raga potremmo dire la nostra opinione non vuol dire che io se preferisco Sarri a Tutor allora voglio che la Lazio con Tutor perde no voglio la Lazio vince voglio che Tutor mi smentisca o semplicemente faccia meglio di quello che è venuto prima e io posso continuare a dire mi preferisco il calcio di Sarri a quello di Tutor cioè non è va bene uguale ti fama la Lazio speriamo che la Lazio vinca speriamo che venga Ballardini e che ci faccia vincere lo scudetto cioè capito? dai forza Lazio tutti lo stadio domenica chi può io non può ciao